A dire a forse c'è un mandato espressamente per mio bene questo miracoloso nel villaggio della scienza su voglia passaggio dottore perdonate e perché possediate se metti forti così sorprendenti la mia sacoccia è di pangola avreste voi per caso l'armanda amorosa della regina di sotto ma che cosa voglio dire lo scoprendo e di sì e di scampone ah sì sì capisco vivendo via le soldi stile e piavelo si se ne fa grigliare poi su e grigliare poi su ma questa è qua oh quant'una e vendete ogni giorno e qual prezzo ne volete un passaggio cioè secondo un sacchì nulla è la somma che ci fa a prender che loro con noi a prender il cuore a prender è che l'imagine o mori mori o mori gatto asi regalo so l'es 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.